Il Papa in Ungheria da domani a domenica 30, Francesco visita il cuore dell'est Europa sul quale, come aveva detto nell'ultimo Regina Celi, continuano ad abbattersi gelidi venti di guerra. Celebrazione pasquale del Vescovo di Chiaveri all'Ailex, per l'azienda è iniziata la produzione di diverse commesse, anche se restano le difficoltà nel mercato dei microprocessori. Imperia si prepara alle elezioni di maggio, 5 i candidati a sindaco, telepace da loro voce questa sera indirettamente su, alle ore 21 sul canale 12. Che città sognano i giovani di Sesti Levante? Le domande emerse da un cammino effettuato dai ragazzi delle parrocchie cittadine saranno poste ai candidati a sindaco in un incontro pubblico domani sera. La formazione a tutte le età, lezione finale pratica per il corso di operatore di cantiere Passivaus, proposto a Chiaveri dall'Istituto Clima Liguria, in collaborazione con Lente Forma, realizzata una casa in legno a consumo zero. I maratoneti del Tigulio festeggiano 40 anni nel 2023, nati dallo spirito di aggregazione e dalla voglia di muoversi insieme durante le domeniche a piedi, hanno mantenuto negli anni questo approccio. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Prende il via domani il 41esimo viaggio apostolico internazionale del nostro Papa. Francesco per tre giorni sarà a Budapest in Ungheria e questa mattina per la 106esima volta Francesco si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera dinanzi all'icona della Salus Populi Romani e affidarle il pellegrinaggio nel cuore di un'Europa sulla quale, come aveva detto nell'ultimo Regina Celi, continuano ad abbattersi gelidi venti di guerra. Il servizio, lo vediamo insieme. È uno dei pochi paesi al mondo che ha ricevuto la duplice visita di due papi. Prima San Giovanni Paolo II, 30 anni fa, subito dopo il crollo del muro di Berlino. Adesso Francesco, che torna nel paese dell'est Europa, dove il 12 settembre di due anni fa si era fermato per circa sette ore, presidendo la messa per la fine del congresso eucaristico internazionale e adesso torna per incontrare i fedeli della nazione. Nei tre giorni in cui sarà a Budapest, città di ponti, che ha conosciuto guerre e occupazioni, distruzioni e ricostruzioni, Papa Francesco incontrerà le autorità civili e politiche, tra le quali la Presidente Katalin Novak e il Primo Ministro Vittor Orban. Nel programma anche l'incontro con la numerosa comunità greco-cattolica del paese. I sei discorsi del Papa, tutti in italiano, toccheranno i temi dell'unità dell'Europa, il futuro dei giovani, il dialogo ecumenico, l'incoraggiamento a una chiesa che ha vissuto epoche di persecuzione e naturalmente il dramma della guerra e l'appello di pace in una nazione che con l'Ucraina martoriata condivide 135 chilometri di confine. Una stretta lingua di terra che rappresenta la via di fuga per molti sfollati che arrivano in Ungheria con pullman, treni o in macchina dopo code chilometriche, attraversando il paese come luogo di transito per poi trasferirsi in Germania, Olanda, Italia e altre nazioni, una terra comunque che ha saputo accogliere. Le istanze della chiesa in Ungheria veramente hanno fatto del bene nell'accogliere i rifugiati ucraini. Già dai primi giorni della guerra, quindi le istanze della Caritas nazionale, della Caritas delle diocesi, erano presenti. È stato molto bello vedere e sentire questa mossa da parte della chiesa, però in un certo senso, o pensandoci, non dobbiamo essere troppo sorpresi perché questa è la tradizione della chiesa in Ungheria. Santa Elisabetta d'Ungheria, quindi grande santa della carità che ha dato molto gli ungheresi poveri dell'epoca, quindi lei era ungherese e quindi questa accoglienza, questa carità manifesta il cuore degli ungheresi. Continua la celebrazione della Santa Pasqua nei luoghi di lavoro. Tra le realtà incontrate nei giorni scorsi dal Vescovo c'è stata anche l'Ailex di San Pier di Canne a Chiavari dove Monsignor De Vasini ha celebrato la Santa Messa insieme ai lavoratori. È stata l'occasione anche per fare il punto sulle produzioni, sulle commesse. Ancora una volta il Vescovo ha sottolineato l'importanza del lavoro nel dare dignità alla persona. Vediamo. La dignità è, credo, la parola chiave che ho utilizzato e che condivido. Allo stesso tempo ha voluto porgere una riflessione, una preghiera alle persone che per motivi diversi in questo momento si trovano in difficoltà per carenze di lavoro o perché l'hanno perso. Ha anche sottolineato la necessità di ritrovare all'interno delle aziende un giusto equilibrio con la famiglia, con gli aspetti privati e trovare anche un buon ambiente lavorativo. Quindi l'azienda deve farsi carico anche di questo. Da questo punto di vista l'Ailex sta facendo qualcosa? Ci stiamo muovendo da un po' di tempo. L'ultimo in ordine cronologico è il cosiddetto progetto Postura. Noi lo scorso anno abbiamo fatto uno screening di tutti quanti i dipendenti. Quest'anno abbiamo ripreso l'argomento, da lì siamo partiti e abbiamo proposto ai nostri dipendenti delle visite posturali apposta, specifiche. Siamo partiti oggi e quindi credo che sia una buona notizia. Dal punto di vista della produzione il mercato si sta lentamente riprendendo. Ci sono ancora qualche difficoltà ma le produzioni in azienda sono partendo, le commesse sono partite. Sì, rispetto allo scorso anno la situazione è migliore. Rimane, permane il tema dei microchip, la cui carenza sta in ogni caso influenzando il mercato, sia noi come costruttori di componenti che i costruttori d'auto direttamente. Quindi questo sta indubbiamente creando delle turbolenze all'interno del mercato al punto che se lei oggi va a un concisionario e chiede una vettura nuova deve attendere diversi mesi, a volte anche più di un anno, proprio perché i costruttori d'auto fanno fatica a stare dietro la domanda. Come se partite quelle di cui abbiamo parlato altre volte, Grecale e Tonale ormai sono partite da diversi mesi, adesso siamo in fase di avvio del cosiddetto B-Pilot e quindi queste sono le primissime sfide con le quali ci stiamo confrontando e poi le nuove commesse che sono state acquisite nei mesi scorsi troveranno un impatto nella produzione nei prossimi mesi bar anni. Da oggi Telepace entra nel vivo delle elezioni comunali 2023 per quanto riguarda la nostra regione. La trasmissione direttamente su di questa sera si occuperà di Imperia, unico capoluogo di provincia a rinnovare sindaco e consiglio comunale e per questo la nostra emittente sbarca proprio nel ponente dove siamo visti e seguiti al canale 12. Daremo voce ai cinque candidati. L'inizio è previsto alle ore 21, la sintesi nel servizio che segue. Cinque candidati a sindaco per una città di oltre 42 mila abitanti. Imperia è l'unico capoluogo di provincia Ligure che quest'anno rinnova il sindaco. Telepace, che da circa un anno trasmette a livello regionale sul canale 12, nell'occasione sbarca sulle rive del torrente Impero e presenta programmi e idee degli aspiranti primi cittadini. A sfidarsi il colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano, sostenuto dalla lista Imperia senza padroni. Segue al secondo posto in ordine di estrazione Stefano Semeria, informatico per il Ministero della Cultura, ex forestale, candidato per il Movimento 5 Stelle. Terzo sulla scheda elettorale è Claudio Scaiola, più volte ministro, sindaco uscente, con già tre mandati svolti non consecutivi, appoggiato da tre liste, avanti, insieme e prima Imperia. Segue Ivan Bracco, vice commissario di polizia, responsabile della postale imperiese, che corre per il centro-sinistra con le liste del PD, Imperia rinasce, sinistra italiana e verdi. Il quinto e ultimo candidato è Enrico Lauretti, ex dirigente della provincia, ingegnere con una laurea in filosofia, sostenuto dalla lista Società aperta. Telepace ha rivolto loro cinque domande per un tempo totale di dieci minuti, nel rispetto dei tempi e dei modi della Parcondicio. I quesiti hanno riguardato proposte per sostenere le famiglie, per aiutare i giovani a restare sul territorio di Imperia, per favorire nuove possibilità di lavoro e per incentivare il turismo. Non mancheranno riferimenti alla sanità, al porto e alla situazione del depuratore, e poi ancora mobilità verde e pedonalizzazioni. Al termine, ciascun candidato avrà un minuto di tempo per lanciare il suo personale appello al voto. Se volete ascoltare che cosa hanno risposto, l'appuntamento è per questa sera alle ore 21 sul canale 12. Alle amministrative 2023 rinnoverà il Consiglio Comunale anche Sestilevante. I sette candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino saranno ospiti di un incontro organizzato dai giovani delle parrocchie cittadine che porranno loro domande su alcuni temi individuati in un percorso di formazione e crescita portato avanti proprio in questi mesi. Sentiamo il servizio che abbiamo realizzato. Che percorso state compiendo con i giovani delle parrocchie di Sestri Levante? Innanzitutto è un cammino di condivisione, un cammino di ascolto anche reciproco, un cammino di proposte. Ecco, chiediamo e cerchiamo di far uscire dal loro cuore, ecco, dalla loro mente, dal loro vissuto, dalla loro vita, un po' quelle domande essenziali e importanti per il cammino della vita di un giovane di oggi. Che importanza ha che si interessino anche alla vita amministrativa della loro città? Ma ci sembrava opportuno cogliere l'occasione delle lezioni qui a Sestri appunto per dare parola innanzitutto anche a loro, ascoltare una parola giovane, ecco che fossero un po' i giovani anche al centro di questo momento che vive la città di Sestri. Come è stato preparato l'incontro di venerdì? L'incontro appunto è stato preparato in diversi gruppi, si sono tirate fuori tantissime, tantissime domande, un po' davvero su diversi temi, ecco appunto i giovani, la casa ad esempio è stato un tema, le prospettive future per loro, un po' i luoghi di incontro, i luoghi di aggregazione, dove anche i luoghi appunto di confronto, ecco tra di loro. Un po' è uscito il tema anche del post-covid, ciò che questo tempo di pandemia ha lasciato, fragilità, il tema del lavoro, il tema dell'ambiente e poi il tema bello, è un po' quello che dà il titolo, il tema dei sogni, ecco, sogni anche come appunto vocazioni. Io vi ricordo che l'incontro si svolgerà domani sera alle ore 21 presso l'auditorium dell'opera Madonina del Grappa di Sestri Levanti. Questa mattina a Genova i carabinieri hanno arrestato Pasquale Bonavota, una delle persone inserite nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità nel programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno. Secondo quanto riporta l'ANSA, Bonavota è stato fermato dagli agenti nella cattedrale di San Lorenzo, i militari erano sulle sue tracce dal 2021. Pasquale Bonavota, 49 anni, era un esponente di spicco dell'Andrangheta, era ricercato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa nell'indagine rinascita Scott dei Ross dal GIP di Catanzaro. Le indagini sono state dirette dalla Procura della Repubblica, direzione distrittuale antimafia di Catanzaro. Dal 2 al 18 maggio 2023 sarà possibile presentare domanda di iscrizione per l'anno 2023-2024 al Nido d'Infanzia Comunale di Rapallo per un mondo unicef. Le domande riservate ai bambini di età tra il novantesimo giorno di età sino al compimento del terzo anno di età. Possono essere scaricate queste domande dal sito del Comune di Rapallo oppure ritirate presso i servizi sociali di Piazza Molfino. La domanda, debitamente compilata e corredata dal documento di identità in entrambi i genitori, potrà essere inviata all'indirizzo PEC, protocollo chiocciola, PEC.comune.rapallo.g.it oppure consegnata anche a mano all'ufficio protocollo. La formazione a tutte le età si conferma l'impegno dell'Istituto Clima Liguria che nel mese di aprile ha proposto in collaborazione con l'ente Forma di Chiaveri un corso per operatore di cantiere Passivaus. Dopo le lezioni in aula, i quattro giorni, si è conclusa anche la parte pratica ovvero la costruzione in piccolo di una vera e propria casa passiva a consumo zero. Siamo andati a vedere. Si è conclusa questa quattro giorni di formazione, un commento a caldo, come è andata? Allora, è andata molto bene, tanta partecipazione, 20 persone da tutto il nord Italia addirittura un partecipante da Malta, è stato molto interessante sia la parte teorica soprattutto con la pratica in cui abbiamo costruito questa casetta in legno. L'Istituto Clima Liguria punta sempre sulla formazione, qui si sta facendo formazione nessuno si deve sentire arrivato, questo è l'appello che fate comunque a chi lavora in questo settore? Questo sì, ma in realtà questo corso è proprio di alto, alto livello nel senso che è venuto addirittura il dottor Nesi che è il referente del Passivaus in Italia e comunque anche il bello della nostra professione, sia di professionisti che di artigiani, imprese è quello che comunque c'è sempre da imparare. I prossimi appuntamenti prevediamo un corso di formazione sulla posa del serramento e del cappotto e poi gli altri sono ancora in via di definizione. È bello vedere studenti che imparano, in questo caso sono studenti un po' in avanti con gli anni, ma la voglia di imparare è sempre la stessa. Sì, questo è un passaggio importante. La formazione dura per tutto l'arco della vita e quindi oggi stiamo assistendo a un corso Passivaus in cui i partecipanti vengono da varie zone d'Italia, hanno varie professionalità però oltre alla teoria sperimentano la costruzione proprio di un edificio Passivaus e quindi con un bassissimo consumo energetico e dopo aver fatto la teoria, ripeto, stanno facendo la pratica. Ecco, l'enteforma si propone come punto di riferimento per gli sviluppi, per seguire gli sviluppi e dare anche opportunità lavorative ai ragazzi, ai studenti ma anche chi già lavora in questo settore. E i progetti sono tanti? Sì, i progetti sono tanti, sempre più si formano sul settore energetico e equip di lavoro che affrontano congiuntamente tutte le fasi progettuali. Alla lezione conclusiva del corso di operatore di cantiere Passivaus sarà dedicata la puntata di questa sera della nostra trasmissione Clima e Casa in onda all'ora 22 su Telepace 1 al canale 12 del vostro telecomando. Oggi c'è stato un'anteprima a Chiavari dell'Economic Forum Giannini in corso in questi giorni a Palazzo Rocca a moderare l'incontro di apertura al direttore del TG2000 Federico Morgante che ha guidato la riflessione sul tema da Amader Peter Giannini ad Adriano Olivetti banca e impresa a misura Duomo. Tra le relazioni Cristina Bolla che ha parlato di come si può rendere ancora attuale la vision di Giannini mentre Diego Targhetta ha parlato di Olivetti l'imprenditore che sognava una fabbrica vicina ai lavoratori. Il forum proseguirà domani alle 10.30 e fino a mezzogiorno si parlerà di turisme e di impresa alle 15 si parlerà di natura e di clima alle 17 è previsto l'intervento del ministro Sant'Anché. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata questa mattina alle 7.53 nel Parmense nella zona di Tornolo a Borgo Val di Taro epicentro a 3 chilometri di profondità è stata seguita da un'altra più piccola di magnitudo 1.6 registrata poco distante nel comune di Compiano alle 8.33 sempre di questa mattina. Sopraluogo questa mattina nei locali della succursale della scuola Barabino a Genova San Pierdarena dove ieri si è verificato il distacco di alcune doghe del controsoffitto di una classe. Vedete queste immagini. Sul posto il vice sindaco di Genova Pietro Picciocchi il presidente del municipio 2 Michele Connaghi responsabile dell'area tecnica comunale il fatto definito molto grave da Picciocchi sollecita un ulteriore impegno dell'amministrazione della strada intrapresa di messa in sicurezza e riqualificazione dei plessi scolastici della città di Genova nell'annunciare il personale impegno affinché al più presto venga ripristinata l'agibilità dell'aula Picciocchi è relazionato sull'intervento in atto che stanno comportando il trasferimento di varie classi per consentire lavori importanti finanziati attraverso il PNRR. Mi scuso con tutto, ha dichiarato il vice sindaco soprattutto con i genitori e il personale scolastico per quanto è avvenuto con l'impegno di trasformare questa vicenda in un'opportunità per fare sempre meglio e sempre di più. In occasione della festa del 1 maggio i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento delle città di Chiavari, Rapallo e Lavagna saranno regolarmente effettuati resteranno chiusi nelle tre cittadine, i centri di raccolta, gli infopoint e i punti di distribuzione del kit e della differenziata sospeso anche il servizio Ecovan che a Chiavari resterà chiuso anche il centro del riuso. Ulteriori informazioni sui servizi di Aprica possono essere consultati nelle sezioni dedicate ai cittadini del sito www.apricaspa.it e sul app Puliamo. Venerdì 28 aprile a Palazzo Fascia a Sestri Levante c'è la presentazione del libro Storie, racconti e una mappa della resistenza di Matteo Brugnoli. L'evento è organizzato dall'AMPI di Sestri Levante all'interno della manifestazione per il 25 di aprile. L'inizio di questa manifestazione è previsto per le 17.30 alla Sala Bo. E ora come di consueto andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani e può partire la sigla. Gli appuntamenti di venerdì 28 aprile. All'auditorium Campodonico di Lavagna c'è la rappresentazione di Bambine in guerra di Luana Valle con gli allievi del laboratorio di lettura espressiva dell'Accademia Culturale di Trapallo, inizio alle ore 10. Prima giornata dell'Economic Forum Giannini a Chiavari, dalle 10 a Palazzo Rocca, saluti istituzionali e convegni su turismo e imprese. Interverranno istituzioni e disponenti di società e associazioni di categoria. Apertura straordinaria del Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Per i corsi di cultura di Chiavari c'è una lezione di storia del cinema con il professor Daniele Lazzarin. Si parla di vita italiana nel cinema di Sorrentino, alle 16.15 nella sala livellata di Via del Pino. Alle 17.30 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova c'è un convegno su Rolly Rays, numeri e impatto sulla città. Partecipano professori dell'Università di Genova, istituzioni locali e persone che si occupano dell'evento. Irene Renei presenta il suo libro Dieci tazze a colazione all'interno della rassegna Lavagna Città che legge, alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza della Libertà. A Sestri e Ponente c'è il concerto Miss on the show a Sestri, ricordando Pietro Parodi, alle 20.30 al Teatro Verdi, ingresso gratuito con offerta libera in favore della Croce Verde Sestrese. Per il centenario del gruppo Alpini di Chiavari all'auditorium San Francesco c'è la rappresentazione teatrale, non si lascia indietro nessuno. Inizio alle ore 21. Nello stesso contesto è aperta alle visite la mostra di Cimeli Alpini e la società economica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. Riunione aperta del gruppo Alcolisti Anonimi della Liguria sul tema perché continua a tornare spiegato alle famiglie. Alle 21 in via Ugo Foscolo 3 a Genova. Passiamo ora allo sport. La Proreco batte Radnichi nella dodicesima giornata della Champions League per 8 a 16 e mantiene il secondo posto nel gruppo A rispondendo alle vittorie di Barcelonete di Olympiacos. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo iniziato bene andando subito sullo 0-4, ma siamo stati bravi a tenere alto ritmo durante tutta la partita. Queste sono le parole di Mr. Sukno al termine della gara. Adesso ci tuffiamo nella semifinale Scudetto. Il Telimar è una squadra seria e dovremo prepararci al meglio. E sono aperte da alcuni giorni le iscrizioni per la 26esima marcia di Chiavari, una delle gare podistiche che da molti anni organizzano i maratoneti del Tiguglio. Si tratta di un'edizione speciale perché coincide con i 40 anni della società. Vediamo. La nascita ufficiale è stata 40 anni fa, ma lo spirito di aggregazione e i motivi che hanno portato le persone a frequentarsi, correre insieme, risalgono ad almeno una decina di anni prima. E dal 1973 e con le prime domeniche a piedi, un provvedimento del governo per limitare l'uso di carburante negli anni in cui era carente a causa dell'embargo dell'OPEC, un po' per necessità e un po' per scelta ci si è ritrovati a piedi. Alcuni hanno iniziato a camminare e a correre insieme. Abbiamo cominciato a frequentarci, a conoscerci e poi si è formato un gruppo e non c'era nessuna associazione, nessun gruppo sportivo che si occupava di maratoneti o podisti di questo sport, di questa specialità. E abbiamo deciso, sentito tutti quelli che c'erano intorno, si erano d'accordo, c'era tanto entusiasmo e siamo partiti e abbiamo creato questo gruppo. 40 anni dopo, i maratoneti del Tiguglio continuano ad essere quella cosa lì, con persone unite principalmente dal piacere di stare insieme e condividere una passione. Non c'è l'avversario specifico, si corre tutti assieme, soffrendo tutti assieme e quindi c'è cameratismo e amicizia. È facile, più che negli sport estremamente agonistici diciamo. Dopo gli anni di stop a causa del coronavirus, a gennaio 2022 erano rimasti una ventina gli associati, con la ripresa i numeri sono tornati a crescere fino all'ottantina attuale. Per il quarantesimo ci sono diverse iniziative in programma, dalle classiche gare organizzate dai maratoneti, come la Marcia di Chiavari, alle trasferte per partecipare a competizioni anche fuori dai confini nazionali. Atene è il simbolo della maratona ovviamente, come storia e tutto il resto, e finire e concluderla nello stadio panatinaisco ti fa venire insomma un groppo alla gola. L'ho fatta cinque anni fa e penso che quest'anno come maratoneti organizzeremo una trasferta da Atene, immagino, speriamo di riuscirci. La rappresentativa Ligure Under-19 ha vinto il Torneo delle Regioni 2023 per la prima volta nella storia della competizione calcistica. La squadra ha vinto 6-4 ai calci di rigore con la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia allo stadio Silvio Piola di Vercelli. L'ultima vittoria nel Torneo delle Regioni era stata nel 1976 quando a trionfare fu la rappresentativa Lievi, l'attuale Under-17. Il Torneo delle Regioni è una competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. I giocatori convocati devono essere tesserati con squadre dilettantistiche dalla serie di in giù. Sono quindi esclusi i giocatori di proprietà di squadre professionistiche che giocano in prestito in squadre di dilettanti. E questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione è come sempre rinnovato al domani all'ore 12.45. Questa sera appuntamento con Direttamente Su, l'avete sentito nel corso del giornale, si parlerà dei candidati a sindaco per quanto riguarda il capoluogo di Imperia. Io mi fermo qui, vi lascio la programmazione serale, augurandovi una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.